Come finisce Terra Amara, anticipazioni finale, Zuleyha sola dopo la morte di Akan. Come finisce Terra Amara? Quali sono i colpi di scena del finale di sempre della soap opera? Le anticipazioni rivelano che la protagonista della serie continuerà a essere Zuleyha. La quale sarà presente in tutte e quattro le stagioni che sono state realizzate. Il destino per lei non sarà affatto clemente, dato che dopo aver affrontato la morte di Yilmaz e quella di Demir, si ritroverà a fare i conti con un altro evento luttuoso che finirà per stravolgere per sempre la sua esistenza. Condannandola ad un destino di infelicità e solitudine. Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre della soap Terra Amara rivelano che si verrà a sapere tutta la verità sul decesso di Demir, dopo che la villa Yaman verrà avvolta dalle fiamme. Ebbene, si verrà a sapere che l'eco imprenditore non ce l'ha fatta, ma non per le ferite e le ostioni riportate in seguito a questo incendio. Bensì perché è stato assassinato da uno degli uomini di Abdukadir che, successivamente, ha abbandonato il corpo dell'uomo, facendone perdere le tracce. In questo modo, quindi, anche Zuley avverrà a conoscenza della verità sul decesso dell'uomo che aveva sposato. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul gran finale di sempre della soap Terra Amara rivelano che per Zuley arriverà il momento di voltare nuovamente pagina dopo questi cocenti lutti che l'hanno colpita. La donna conoscerà Akan, un ricco imprenditore che riuscirà a far breccia nel suo cuore. Giorno dopo giorno, tra i due nascerà un feeling speciale che li porterà a rendersi conto di essere realmente innamorati. Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, al punto che Akan deciderà di chiedere alla donna di sposarlo e diventare così sua moglie a tutti gli effetti. Ma quello che avrebbe dovuto essere il nuovo inizio di Zuley, si trasformerà ben presto in un'immane tragedia. Inoltre Betul si presenterà alla villa di Zuley con l'intento di ammazzarla ma, alla fine, colpirà Akan. Il colpo di arma da fuoco si rivelerà fatale per l'uomo, il quale morirà tra le braccia della sua amata, a quel punto. La protagonista della soap si ritroverà per l'ennesima volta sola. Occhi puntati anche su Fikret, le anticipazioni sul finale assoluto della soap. Rivelano che l'uomo riuscirà a voltare pagina grazie a Zeynep. Tra i due sboccerà l'amore e, proprio nel corso degli episodi conclusivi della soap opera, avverrà il tanto atteso matrimonio che li renderà marito e moglie a tutti gli effetti. Pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita assieme. Calerà così il sipario sulla soap opera del pomeriggio di Canale 5. Grazie a tutti. Grazie a tutti.